Soffermiamoci a guardare quest'altra novità che giunge dagli Stati Uniti, la registrazione sul nastro magnetico delle immagini televisive. Eravamo venuti per riprendere e siamo a nostra volta ripresi. E dopo appena un minuto riappare sullo schermo la nostra immagine tale e quale ha prima. È il videotape oggi normalmente usato da numerose televisioni del mondo, ma quando fu presentato alla Fiera di Milano costituiva una assoluta ed eccezionale novità. Grazie a tutti.